Ingegnere Xania Fiorentini, amministratore delegato dell'Angesis SRL, società che si occupa di interoperabilità e processi collaborativi nel mondo delle costruzioni, aerospazio e difesa e uno dei soci fondatori di BIM, adesso diventato capitolo italiano di Building Smart. Che cosa è il formato standard e qual è l'importanza nei processi BIM? Ok, il formato standard è una lingua neutra attraverso la quale diversi software, in questo caso di BIM autoring, possono parlare. È come se due persone internazionali, io italiana e lei francese, ci incontrassimo in un contesto internazionale, decidessimo insieme di parlare inglese. In questo caso IFC è il linguaggio che i due diversi software possono decidere di adottare per poter fare che cosa? Uno, uno scambio di informazioni e due, archiviazione a lungo termine dei dati e delle informazioni contenuti nei modelli. Sono tornata un paio di settimane fa dal summit di Building Smart International di Düsseldorf, occasione nella quale ci siamo confrontati, quelli che sono gli attori principali nel resto del mercato europeo, ma anche addirittura mondiale. Quello che abbiamo notato è che sicuramente occasioni di questo genere sono occasioni di confronto con il resto di altri paesi, ad esempio vediamo i paesi del nord Europa, che in realtà adottano una metodologia BIM da tempo, con un investimento nell'open BIM particolarmente pesante ed importante. L'Italia sta rincorrendo, ma sta rincorrendo a una grande velocità. Questo perché abbiamo il famoso decreto baratono naturalmente che lo utilizza, non solo ma perché la diffusione del metodo stesso permette alle persone coinvolte di apprezzarne naturalmente i vantaggi. Grazie. 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 Grazie.